A Pompei i crolli sono un capitolo chiuso, così Massimo Sanna, direttore generale del Parco archeologico, all'apertura oggi di un nuovo percorso tra le mura della scuola Armaturarum, sede di un'associazione di gladiatori della quale è stato ultimato il restauro. Questa è una giornata di ricostruzione e non di collassi. Possiamo dire che a Pompei i crolli sono ormai un capitolo chiuso, questo è bello e per questo dobbiamo ringraziare il team che ha lavorato qui in maniera indefessa. Riepriamo la scuola, ovviamente un edificio che non restaureremo come è stato fatto nel dopoguerra con le coperture, non sarebbe più adeguato al standard attuale del restauro, ma vogliamo renderlo fruibile, anche come luogo del riscatto di Pompei. Il messaggio del lancio è che adesso quello che bisogna fare a Pompei è, una volta risolti i problemi alla base, quello che andava fatto, cioè un grande progetto che significasse una manutenzione straordinaria e un restauro di capillare, una messa in sicurezza capillare di tutto, adesso c'è bisogno della manutenzione. Sono contento di riuscire oggi a chiudere il mio mandato con questa riapertura perché, come dico, è un po' rappresenta la storia di Pompei nel Novecento. Fondamentale ora, precisa Osanna, implementare i controlli e la sorveglianza all'interno del parco archeologico di Pompei. Accanto alla videosorveglianza ci vogliono gli umani perché non deve più accadere quello che accade spesso, ossia dei selfie sulle colonne, è chiaro che con l'organico di adesso non è possibile in maniera capillare, controllare ovunque.